Buonasera dalla redazione di Teletruri, appuntamento con le notizie del nostro TG Centro. Iniziamo subito con l'arresto di due spacciatori che spacciavano droga fuori da una discoteca di Perugia. Sono stati scoperti e arrestati dai carabinieri di Ponte San Giovanni, hanno 22 e 27 anni. I militari, insospettiti dal via vai di giovani che andavano dal locale alla macchina dei due, hanno fatto dei controlli, li hanno arrestati perché gli interessati invitavano i clienti a raggiungerli nel piazzale dove cedevano loro della droga. Notevole la quantità di sostanza illegale che è stata sequestrata sia in auto che a casa dei due, e sono 106 pasticche di ecstasy, 740 euro in contanti, 12 grammi di cocaina, un bilancino di precisione. Convalidato l'arresto. Non ce l'ha fatta l'anziano che era rimasto ferito nell'incendio della sua casa nel centro di Città di Castello lo scorso 8 marzo. A distanza di un mese è morto l'uomo di 80 anni che era rimasto ustionato e intossicato nell'incendio avvenuto nella sua abitazione fra piazza Sanzio e via Mariangeloni nel centro storico di Città di Castello. Gianfranco Patrizzi, erede di una famiglia nobile, è morto nella sera del 9 aprile all'ospedale di Fernate. L'uomo era stato salvato dai vigili del fuoco l'8 marzo scorso dopo che aveva tentato di spegnere l'incendio. Le sue condizioni erano parse sin da subito gravissime a causa delle ustioni e delle abbondanti esalazioni tanto che era stato disposto il trasferimento immediato al centro specializzato di Ravenna per un trattamento in camera iperbarica, poi di nuovo all'ospedale di Città di Castello dove purtroppo è morto. I funerali si sono svolti in forma privata. Un trentenne è stato arrestato per furto aggravato e è accaduto a Spoleto. L'uomo originario della cittadina Umbra danneggiava un distributore se il servizio di una farmacia aveva frantomato il vetro portando via i prodotti. L'intervento dei carabinieri chiamati da una segnalazione ha permesso di individuare il responsabile che nel frattempo si era allontanato con la rifurtiva. La merce è stata restituita. Innovativa la scelta di Fondazione Perugia di rendi contare le attività svolte da 17 enti vincitori di bandi welfare. Lo ha fatto con uno spettacolo teatrale. Vediamolo. Non potevo rimanere fermo a un altro istante. Sì, io mi prenderò fuori di voi. Uno spettacolo teatrale per valorizzare le persone e il lavoro che ogni giorno svolgono, ma soprattutto per racchiudere in un linguaggio universale come il teatro 5 anni di storie che hanno visto impegnati 17 enti scelti dalla Fondazione Perugia come vincitori dei bandi welfare 2018-2019, per i quali sono stati erogati oltre 2 milioni di euro. Un vero e proprio welfare mosaico di storie, come il titolo dello spettacolo andato in scena al Teatro Morlacchi di Perugia, con la regia di Carlo Dallacosta e Francesca Caprai. Insieme all'incastro di tutte queste realtà che appunto spesso non vengono messe alla luce perché lavorano silenziosamente sotto Bosco, l'abbiamo voluto portare all'attenzione di tutti attraverso un linguaggio che fosse comprensibile e arrivasse ai cuori, quindi quello teatrale. Un qualcosa di intimo e innovativo, capace di dimostrare quanto la Fondazione creda ed investa anche nel terzo settore. È proprio in sede che si sono svolte le prove e la preparazione dello spettacolo. Un progetto che ha avuto inizio a ottobre si concluderà adesso e sarà un modo diverso per raccontare la comunità nei suoi molteplici aspetti. La pandemia stava spegnendo il mondo, ma c'è chi ha resistito ed oggi è tornato a risplendere di luce propria. Tanti i progetti coinvolti, dalla demenza senile ai problemi psichiatrici, tutti uniti in una vera e propria squadra. Il risultato di un lavoro teatrale in cui persone si sono messe in gioco per interpretare in prima persona il loro lavoro con impegno, passione e sincerità. La gestione del rischio idraulico e idrogeologico è una priorità nell'azione della regione toscana. Il governatore Gianni e l'assessore Monni hanno fatto il punto sulle misure messe in campo dalla regione su tutto il territorio toscano. Interventi importanti anche in provincia di Arezzo. Sul fronte della difesa del suolo la regione toscana si sta adoperando con fondi e proprie risorse del PNRR. Il territorio regionale è fortemente soggetto al rischio idraulico e idrogeologico senza dimenticare la grave emergenza della siccità. La regione ha messo in campo già numerosi interventi e altri prenderanno avvio nel 2023. Noi abbiamo 60 milioni di lavori che sono in questo momento in corso. Parlo per quanto riguarda l'Arno, il bacino fluviale più consistente in Toscana con le due casse d'espansione che a Restone e a Pizziconi ci possono portare a paventare di fronte a un innalzamento del livello del fiume la possibilità di regimentare le acque attraverso queste vasche di laminazione. Sono interventi che inaugureremo nell'arco di pochi mesi. Contemporaneamente abbiamo 11 milioni di lavoro sul cerchio, 11 milioni di lavoro su quello che è il Cescina e quindi la Val di Cecina. Interventi importanti anche nell'Aretino e nel Pistoiese. L'altro intervento e gli altri interventi rilevanti sono nella provincia di Arezzo. Andiamo ad intervenire per chiudere gli interventi post alluvione del 2019 e aggiungeremo ai 23 milioni già stanziati altri 16 milioni e mezzo. L'altro intervento rilevante riguarda l'area di Pistoia, cioè il Bure, che è un affluente dell'Ombrone. Sono altri 14 milioni che vanno ad alleviare la pericolosità dell'Ombrone, che è un sorvegliato speciale per la nostra regione. Ruma ha un telefono cellulare da una vetrina di un negozio, ma è stato individuato e denunciato dai carabinieri di Castiglione Fiorentino e dalla Procura della Repubblica di Arezzo. L'accuso è furto aggravato, è stato rintracciato grazie alle immagini della videosorveglianza e poi anche ad una scheda telefonica a lui intestata. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine e il telefono cellulare è stato recuperato. Durante l'ultimo Consiglio Comunale di Terranuovo Bracciolini è stato dato mandato all'amministrazione di individuare un rappresentante in seno alla Multi Utility, la neonata società per l'erogazione di servizi come energia, acqua e gas. Continua l'iter anche in Val D'Arno per definire l'ingresso dei comuni nella Multi Utility, società creata per l'erogazione dei servizi pubblici, ambiente, energia e ciclo idrico. A Terranuovo a Bracciolini il Consiglio Comunale ha approvato un documento per gestire il passaggio in modo unitario con le altre amministrazioni della zona. Il Consiglio ha dato mandato al Sindaco e poi ha delegato me alla sottoscrizione di un secondo livello di patti parosociali. Si tratta di un atto in cui il nostro Comune, assieme a altri 19 comuni della provincia di Firenze che guarda al Val D'Arno, tra questi posso citare il Comune di Figli Neicisa, Reggello, Scandicci, Imponeta per definirne alcuni, questi comuni si sono messi insieme per andare ad individuare un proprio rappresentante all'interno del Consiglio di amministrazione della nascente nuova società, quindi la Multi Utility Toscana, in maniera da poter avere un rappresentante territoriale che possa portare avanti le istanze di queste aree geografie. La Multi Utility prevede la fusione di Alea, Publi Servizi, Acqua Toscana e Consiag. Secondo il Vice Sindaco di Terra Nuova avrà degli scopi ben precisi. Questa società è stata fatta esclusivamente per ridurre i costi di gestione, quindi invece di quattro soggetti distinti, un unico soggetto che possa avere un unico presidente, insomma avere meno poltrone da dividere, dovrà garantire una maggiore efficienza, efficacia e regolare un servizio migliore per gli utenti e i cittadini. Adesso parliamo dei turisti, c'è stato un boom di turisti nella Valtiberina e in particolare a Sansepolcro, li vediamo in questo servizio. Oltre mille visitatori al Museo Civico di Sansepolcro nelle vacanze di Pasqua, è stato un boom di turisti nei giorni dal 7 al 10 aprile nella città di Piero. Sono stati ben 1178 gli accessi al Museo Civico, per la prima volta aperto ad orario continuato. Dunque arte e cultura hanno ammaliato i tanti visitatori, soprattutto italiani, che hanno potuto godere per la prima volta di un orario esteso, dalle 10 alle 18. Dal venerdì santo al lunedì di Pasquetta, prendendosi tutto il tempo necessario per poter ammirare le sale del museo, in cui sono custodite tantissime opere, tra cui quelle della maestro Piero della Francesca. A dare ancora più valore ai numeri degli accessi, il fatto che aggiungere in città sono state famiglie e piccoli gruppi di amici, non erano infatti state prenotate visite di gruppi. Dopo la visita al museo, molte persone hanno approfittato dei gadget e dei ricordi, in vendita al bookshop, portando con sé un pezzetto di Sansepolcro delle sue meraviglie. Buoni anche i numeri della Casa di Piero, che ha contato oltre 150 visitatori per le visite guidate nell'antica dimora del maestro del Rinascimento. Sansepolcro, la sua storia e la sua arte sono sempre più di richiamo per i turisti che la città attende numerosi, soprattutto in vista della bella stagione. Domani a Sansepolcro si parlerà di sicurezza stradale. L'iniziativa promossa dai Lions è in programma alle 10 nei locali della scuola Collodi, dove gli organizzatori incontreranno i ragazzi dell'Istituto. All'evento collabora anche l'ACI di Arezzo. Nel trentennale Parco delle Foreste Casentinesi, Sasso Fratino, c'è un esempio di una foresta che non ha bisogno dell'uomo, mentre l'uomo ha bisogno del bosco. Vediamo questo servizio molto interessante. Luca Santini, Presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Montefalterone e Campigna. Parco Nazionale, Foreste Vetuste e naturalmente anche il riconoscimento come patrimonio dell'UNESCO. Siamo con Sasso Fratino. Bisogna lavorare su Sasso Fratino perché naturalmente rimanga una realtà da un punto di vista ambientale. Io credo che il miglior investimento in Sasso Fratino, visto che sono poche centinaia di ettari, la corarea, 750 ettari, contornate da altri 6.900 ettari di foreste vetuste di faggio, credo che almeno la corarea vada lasciata alla sua evoluzione naturale. Spesso sento dire che il bosco ha bisogno dell'uomo, altrimenti muore. Sasso Fratino è la prova provata che è l'uomo che ha bisogno del bosco. In realtà il bosco non ha bisogno dell'uomo e ne ha ancora meno bisogno quando il bosco diventa foresta. E quindi sono in grado di sopravvivere e di risolvere tutti i problemi che si pongono a loro quotidianamente per la loro sopravvivenza. Sono in grado davvero di evolvere verso una naturalità che trova un equilibrio e l'uomo se non interferisce in questo equilibrio la foresta è in grado di vivere tranquillamente da sola. Quindi il migliore investimento, almeno in queste porzioni che sono state lasciate libere di evolversi, è quello di non toccarle e di vedere dove possono arrivare. Un incontro per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della disabilità è in programma sabato prossimo a Fogliano su iniziativa dei Lions Club Cortona Valdichiana Host. L'incontro dal titolo Riflessioni ed Alta Voce sulla disabilità è in programma presso la Sala Gervasi alle 17. L'evento vedrà la testimonianza di alcune associazioni del territorio che operano nel settore ma anche di esperti che si confronteranno proprio su queste tematiche. E questa era l'ultima notizia di questo appuntamento informativo con il nostro Tg Centro. Grazie dell'attenzione e buona serata su Teletruria. Grazie. Grazie.